I musicisti della provincia di Frosinone nella storia. Questo il titolo del libro che è stato presentato presso il castello Ladislao di Arpino, un'opera che mancava nel panorama culturale della provincia. Gli anni per realizzare l'opera sono stati quattro. È stato un libro corale, cioè abbiamo avuto l'aiuto di molte persone che ci hanno fornito notizie, notizie inedite, fotografie e hanno scritto le voci dentro il libro. La provincia di Frosinone ha dato i Natali a diversi musicisti, compositori, direttori di banda o di orchestra, cantanti, organisti, pianisti, flautisti, liutai. Fino a questo momento però per molti di questi mancava un profilo biografico, motivo per cui è nato questo testo. Ma proviamo a citare tre nomi illustri. Sono tre che fanno riferimento all'istituzione del conservatorio. Da un lato ovviamente Daniele Paris che lo ha istituito, che è stato uno straordinario compositore e uno straordinario direttore di musica contemporanea. Ricordo Gazzelloni, flautista, forse il più grande flautista al mondo e credo che da questo punto di vista non si possa che citare Licignorefice. Il testo è stato realizzato grazie alla collaborazione dell'Istituto di Bibliografia Musicale di Roma e della Fondazione Mastroianni. Sono grato alla provincia che ha permesso la realizzazione di un volume che mancava nella nostra biblioteca, che parla della nostra terra. È un piccolo dizionario dei grossi musicisti della provincia di Frosinone. A fare gli onnori di casa nella presentazione di qualche giorno fa il sindaco di Arpino, Renato Rea, che ne ha approfittato per ricordare la grande vena musicale del comune di cui è primo cittadino. Ricordare dei musicisti del passato, non soltanto di Arpino, ma dell'intera provincia di Frosinone, in questo libro sui musicisti proprio della provincia di Frosinone nella storia, che va a colmare una lacuna, però mette in evidenza la presenza di personaggi come Carlo Conti, uno per tutti, o Enberger, maestro liutaio, che proprio qui ad Arpino hanno svolto la loro opera.